Stasera al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino arriva Luca Argentero in E' questa la vita che sognavo da bambino? L'appuntamento in esclusiva per la campagna e tra gli eventi fuori abbonamento a cura di anni 60 produzioni nel Teatro Irpino. Nello spettacolo Luca Argentero racconta le storie dei tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere intere generazioni. Luisin Malabrocca è il ciclista, inventore e la maglia nera in cui le persone hanno riconosciuto l'antieroe che è nel cuore di ogni italiano. Walter Bonatti, l'alpinista che dopo aver superato incredibili sfide scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l'uomo è l'uomo stesso. Alberto Tomba, l'insolito sciatore bolognese che ha radunato intorno alle sue gare tutta la nazione incarnando la rinascita italiana degli anni 80. Tre grandi personaggi alle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, raccontati sia dal punto di vista umano che sociale con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. I biglietti per lo show sono ancora disponibili in prevendita su Ticket One e nei circuiti di vendita autorizzati. Il botteghino del teatro sarà aperto il giorno dello show dalle ore 17 fino ad inizio spettacolo. Per accedere allo spettacolo, come da disposizioni governative, è richiesto il Green Pass rafforzato che potrà essere esibito sia in formato digitale che in formato cartaceo. Si ricorda agli spettatori che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Lo show avrà inizio alle ore 21.